Daniele Arigliano, in attesa di ratificare dinanzi al notaio il passaggio delle quote da Umberto Vangone a sé, continua a lavorare per fare ordine all'interno della società. In primis, in attesa di diventare socio di maggioranza ufficialmente, ora c'è solo una scrittura privata tra le parti, ha già contattato giocatori della scorsa stagione per chiudere le pendenze economiche. Intanto, parallelamente, si lavora per stilare la domanda di ripescaggio in Serie D. Certo, in parte, bisogna dire che Arigliano si sta muovendo molto sulla fiducia nei confronti dei suoi colleghi soci, certo che il passaggio di quote avverrà breve. In caso di ritorno in D, intanto, gli scenari potrebbero essere diversi anche sul piano tecnico. Se nelle ultime ore si è parlato sempre con più insistenza di un possibile ritorno in rival adriatico del direttore sportivo Nicola Dionisio, Dalle ultime indiscrezioni si parla di un altro direttore sportivo, Morgese, ex DS di Trani e Bitonto, che avrebbe avuto nelle scorse ore un primo contatto con lo stesso Arigliano. Con Morgese arriverebbe sulla panchina del Brindisi un ex Monopoli e Barletta, Mr. Tangorra. Ma forse non è il caso di guardare così tanto in avanti, in quanto ancora bisogna capire quali saranno gli sviluppi ufficiali sul fronte societario. Grazie.